È una bella iniziativa qui alla scuola Littardi, insegnate ai bambini l'educazione stradale anche con l'ausilio dei vigili urbani. Sì, anzitutto ringrazio i vigili urbani che sono stati disponibili per questa iniziativa. Naturalmente le maestre che hanno sempre queste idee molto belle e che mi sembrano davvero utili perché comunque l'ottica è sempre quella di cominciare da piccoli a fare le cose, tutte le cose. Quindi l'educazione stradale è sicuramente una di quelle cose che bisogna cominciare a acquisire da piccoli perché comunque i bambini alla fine interagiscono col traffico in bene o male con le varie attività che fanno. Quindi prima imparano e meglio, servirà sia ora e poi anche in futuro quando dovranno comunque fare altre cose. Prendere una patente, avere già la mentalità del rispetto delle regole anche nell'ottica di come comportarsi sulla strada alla fine è anche un miglioramento per la sicurezza di tutti.